L'obiettivo di New Age è quello di fornire i migliori prodotti in modo da sentirti bene ogni giorno. Crediamo che ogni persona sia unica e abbia esigenze diverse. Ecco perché sviluppiamo la linea BEU con la scienza, alta tecnologia, ingredienti sani e gustosi che offrono in modo conveniente ed efficace tutto il necessario per vivere al meglio. Conosci i nostri prodotti. BU Day. Dai energia e goditi la giornata. Niente di meglio che svegliarsi ogni giorno con uno shot e un colpo di energia e vitalità per godere del meglio della vita, lavorare e produrre con grande benessere. BU Day ti dà questo e molto altro. È un complesso di estratti di frutta, verdure, vitamine, minerali, fibre e principi attivi con triptofano esteso che rilascia caffeina microincapsulata ideale da consumare al mattino. BEU Defense. Il tuo scudo giornaliero. Non è mai stato così importante diventare più forti e preparati a tutto ciò che accade là fuori. BEU Defense è la tua dose giornaliera di protezione. È una combinazione di ingredienti naturali, vitamine e minerale per rafforzarvi dalle minacce del mondo moderno. Accurcuma, zenzero e uva bianca. BEU Fit. Stabilisci e conquista i tuoi obiettivi. Quanti lunedì o inizio anno hai passato per iniziare quella fantastica dieta? BEU Fit arriva per aiutarti a soddisfare i tuoi obiettivi e raggiungere la forma ideale per te. Ideale da consumare prima dell'allenamento o durante una giornata attiva. BEU Strong. Alimenta e rafforza il tuo corpo. Chi si allena lo sa. Ci vuole molto tempo per guadagnare massa magra, ma la perdi in un batter d'occhio. BEU Strong è stato sviluppato per aiutarti a conquistare e soprattutto mantenere la massa magra guadagnata nell'allenamento. Che si tratti di avere più muscolo o solo più definizione, Strong è un grande alleato. Strong è una scossa che si consuma dopo l'allenamento o per tutto il giorno, preferibilmente con un'attività fisica, con peptidi di collagene bioattivi e proteine del siero dell'acqua. BEU Young. Senti affari più giovani. Com'è bello guardarsi allo specchio e amare ciò che vedi. Goddi ed evidenzi la tua bellezza sentendoti sempre giovane nel tuo tempo. BEU Young agisce sulla salute, qualità e giovinezza della pelle, unghie e capelli. È un integratore di mirtillo, uva spina, bacca agliacai e acerola, ideale da consumare durante il giorno. BEU Knight. Avere il miglior riposo della tua vita. Dopo una giornata intensa è il momento di disconnettersi dalle preoccupazioni del mondo e riposarsi. BEU Knight vi darà una pace, sonno con i vegani e trasformativo nella notte. È la tua ultima dose sana della giornata con camomita, frutto della passione, ibisco, copassu, rosmarino del biride, gattuga, mirtillo, mele e banana. Ideale da consumare prima di coricarsi. Quali prodotti ti soddisfano? Parla con un distributore indipendente New Age e costruite assieme il tuo programma.